Oh! Che? Lo conosco. Shhh! Hm, stronzo. Quasi hai detto? Niente, stronzo. Tu, non mi ascolti. E da quando? Da sempre. Maaah! Attento, sta arrivando qualcuno, fai finta di essere un gatto? Chiu! Brrrr! Miau. 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 Oh, ascolta, se facciamo i bravi, ci preparano le polpette. Vieni qua, vieni, vieni. Oh, guarda, stanno preparando le polpette. Stanno preparando le polpette. Ehi, mi sto fanno.